Giornata internazionale delle persone con disabilità, l'innovazione per un mondo accessibile ed equo. Come ogni anno, il 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità. La ricorrenza è stata istituita nel 1992 dalla risoluzione numero 47 barra 3 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Più di un miliardo di persone, ovvero circa il 15% della popolazione mondiale, in tutti gli ambiti della società, aumentare la consapevolezza dei loro bisogni specifici e fare luce sulle barriere che negano l'uguaglianza tra i cittadini e cambiare il paradigma della disabilità per abbattere pregiudizi e stereotipi. Ogni anno la giornata ha un tema e quest'anno le Nazioni Unite hanno scelto soluzioni trasformative per uno sviluppo inclusivo, il ruolo dell'innovazione per costruire un mondo accessibile ed equo, comunica. Crediamo che il modo migliore di sostenere questa giornata sia parlarvi del nostro servizio Comuni Caens, l'esempio concreto di quella che è la nostra idea di innovazione e del ruolo che può avere per migliorare la qualità della vita delle persone e ridurre le disuguaglianze. Il Comuni Caens è un centralino che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti grazie a una serie di canali e al lavoro degli operatori che prestano la loro voce permettendo alle persone sorde di chiamare ovunque e a chiunque e alle persone udenti di comunicare con loro in modo semplice, risoluto e veloce. Nato nel 2012 in Piemonte grazie alla collaborazione tra Consiglio regionale ENS Piemonte e la Regione, questo progetto tecnologico innovativo è diventato oggi una realtà consolidata su tutto il territorio nazionale che conta circa 2,5 milioni di interazioni all'anno, grazie anche alla nuova app e al nuovo servizio di video chat LIS. Il Comuni Caens è quindi un servizio che garantisce alle persone sorde l'accessibilità, che non è una semplice questione tecnica ma un diritto non derogabile e condizione necessaria per il pieno esercizio di tutti gli altri diritti. Grazie a questa tecnologia inclusiva, infatti, i sordi vedono riconosciuto il loro diritto ad avere una comunicazione autonoma, completa ed efficace, ad esempio con il proprio medico, le forze dell'ordine, un familiare, un collega o anche un decisore politico, esprimendosi nella propria lingua madre. Si tratta a tutti gli effetti di un servizio essenziale che meriterebbe di entrare nei livelli essenziali di assistenza, LEA, avvicinando così il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale così ben espresso nella nostra Costituzione e rendendo concreto il motto del Movimento Internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Niente su di noi, senza di noi.